Ai nastri di partenza il Servizio Civile Nazionale 2016-2017 per l'Avis di Pratola Peligni e Sulmona. Il conto alla rovescia è partito già da qualche giorno, ma quando mancano una manciata di ore al fatidico 10 ottobre, gli operatori locali di progetto si ritrovano proprio nel centro Peligno che è diventato sede del corso di formazione. Una sorta di vademecom per i responsabili che con tacquino alla mano hanno preso nota dei compiti e delle responsabilità che spettano ai giovani del servizio civile. E' una sorta di trampolino di lancio per questo nuovo percorso con le raccomandazioni di rito ai responsabili del progetto, ha detto Martina Serafini del Servizio Civile Regionale. In parte il preambolo su quella che sarà la loro esperienza, ma soprattutto quali sono le leggi che andranno a tutelare i ragazzi e quali sono i loro obblighi nei confronti dei ragazzi perché ogni operatore locale avrà poi delle responsabilità nei confronti di questi volontari. Sulla stessa lunghezza d'onda Luciana Celeste, delegata regionale Servizio Civile. Mettere in rete tutti i volontari tra le varie associazioni di Avis presenti nel territorio abruzzese e conoscere i ragazzi per cercare di capire quali tipi di progetti li portare avanti in questo anno. A ricordare le grandi opportunità che scaturiscono da questa avventura è stata la pratolana Lorenza Petrella, anche lei delegata regionale del Servizio Civile. Il mio consiglio è quello di credere realmente in quello che si fa, sarà un anno, un'esperienza bellissima, indimenticabile e unica, per cui godetevi questa bellissima e fantastica esperienza e in bocca al lupo a tutti. La palla passa ora a nuovi giovani, una giornata che ha dimostrato la vitalità dell'Avis Abruzzo e che è stata molto utile, rilevano Marco Alberico e Marcella Mastro Giuseppe, pronti per il nuovo percorso. Una cosa molto importante a mio avviso è che questa giornata ha dimostrato l'attività e la vitalità dell'Avis Abruzzo perché i giovani sono sempre più numerosi all'interno dell'associazione e anche nello stesso tempo c'è stata una presenza degli OLP e dei delegati Avis che sono molto formativi e nello stesso tempo da molto tempo attivi e che tramandano la loro esperienza a noi giovani. Come sarete impegnati in questa nuova avventura? Ci vedrà impegnati sia nelle attività in sede, quindi attività di segreteria e gestione di tutte le pratiche tra virgolette amministrative e anche in attività di assistenza ai donatori in ospedale quindi presso il centro trasfusionale presso l'ospedale di Sulmona e anche poi in tutte quelle che saranno le attività di promozione e di sensibilizzazione sempre con l'obiettivo di avvicinare sempre più persone a questo importante gesto qual è quello del dono del sangue